Neve in città, bloccato il cavalca ferrovia, raffica di incidenti nel pomeriggio, i primi fiocchi mandano in tilt gli automobilisti, 11 spandisale di reninazione, disagio in provincia, domani torna il sole. Fondazione I Tre Volti del Volontariato, nuove nomine nel Consiglio Generale dell'Ente, entrano favari, dotti e fiorani, indicate dalle 64 associazioni di volontariato piacentine. La camorra arriva a Piacenza, posso usare il tuo nome a Piacenza, inquietante, telefonata e intercettata tra due camorristi, un affigliato chiama il boss e gli chiede il permesso di intimorire un inserviente per riscuotere soldi. 450 kg di fuochi d'artificio in garage, maxi sequestro dei carabinieri a San Giorgio nel box di un operaio cinese, l'uomo voleva rivendere il materiale ad amici e conoscenti. Squeri Revisore spacca il centrodestra, minoranza divisa in comune sulla nomina dell'ex assessore, intanto PDL e Grillini entrano in clima elettorale. Palazzo Farnese, Natale senza risorse, personale ridotto e pochi fondi per organizzare eventi, ma i musei puntano al rilancio nel 2013. Europei di kickboxing, podio piacentino a Bucharest, successo per tre atleti della Yamarashi, due ori e un argento.